È giunto il momento, oggi avrete la possibilità di votare attraverso le storie di Instagram per il peggiore della settimana partendo dai vostri selezionati dei giorni precedenti per cui mi raccomando perché poi mercoledì andremo a fare l'estrazione e vedremo le conseguenze di questa prima settimana e questa diventerà la nostra consuetudine settimanale Detto ciò, detto ciò, oggi Coppa di Spagna Collega Ness, siamo in una condizione in cui sembrerebbe che si sia trovato il punto Ci abbiamo ancora il periodo con Marinovic e Calua per ora che ci accompagneranno ancora con un altro episodio e poi dalla settimana prossima riprenderemo con gli imprevisti canonici che usciranno fuori in base a quello che avete scelto voi Per cui, estrazione, l'estrazione, l'estrazione, un de trois, sei Mamma mia che bugio di... Attivamente non se ne prende mezza, ringraziando il cielo Distorta e meno male Allora, io vorrei fare un risultato più che di schermo in Coppa Non se non c'è niente C'è proprio possibilità alcuna di andare a vincerla Però Ma in mezzo qualcuno ci va? Se gli va Se gli va In l'alba È buona Niente Si è fatto spostare Si è fatto spostare Inspiegabilmente Il Lega Ness non è di Serie A Mamma mia che rischio O ce l'abbiamo in B con noi Ti prego No Dove dole in profondito Io cosa lo provo a fare Y Bravo Calma, calma Giro palla Giro palla Giro palla Ah La verrete Alza Il dominatore dei cieli Niente Pi al fallo però Pi al fallo Non Ancora Silvan Tiene di fisico Eh Il tiro è quello che è però Ma che te gira dall'altra parte Ma che sei matto Ma che Scusate un attimo Ma perché Guardate Marinovic Cosa fa Perché Perché Ma perché La palla arriva e lui se ne va Perché Cosa mi rappresenta Cosa mi rappresenta Ma cosa mi rappresenta Ma cosa mi rappresenta Ma cosa mi rappresenta Ma perché Io veramente Non ho Non ho parole Non ho parole Non commento Non commento Sennò divento 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 Ripetitivo Non commento Mamma mia Mamma mia Benedetta Ma no Non è possibile Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Cosa cazzo Rola fa Cosa fa Cosa 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 Cazzo Parola fa Io Non ho Parola Io Non ho Saffa Il molleggiato Che cazzo Non la fa E cosa C'è l'entano E' c'è l'entano Che fa tutto Che fa tutto Il molleggio Cos'è 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 No vabbè ragazzi Veramente 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 Ed ecco dunque Arrivato il primo No dell'incontro Un a zero Io non ce la faccio Io non ce la faccio Poi Anzi Scasualmente Al 45esimo Scasualmente Però Scasualmente Io 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 veramente Vorrei Io vorrei Io vorrei Io vorrei Io vorrei Vorrei comprare Un maxi schermo Di Da 150 pollici Metterlo E metterlo in casa Di tutti coloro Che In prelancio Andavano davanti A un microfono A dire Ah quest'anno Abbiamo lavorato Sui portieri E fargli vedere Questo In loop 72 ore Con gli occhi Aperti Di parancia Meccanica Ecco Guarda Cosa hai fatto Ecco Questo vorrei fare Però purtroppo Non si può fare Anche perché Non ho i soldi Per 150 pollici Però Però Veramente Io ce la posso Io ce la posso Fare Bebierà una sincopa A me Prima della fine Ehm Vabbè Questa è l'evoluzione Del tucatucca Dovai? Abbiamo capito Che Che abbiamo In porta A cilentano C'ha la maschera Ma attiamo Sgamato Molleggiato Non importa Che pia Go Parta la musichetta Jingle Ci riprendiamo Quello che ci ispetta Di diritto Ovvero Un pareggio In questo momento Mamma mia Mamma mia Ecco Quella è una cosa Che assolutamente Capiterebbe a me Fortunatamente Oggi è capitata Allora Ti prego No Fuorigiochissimo Fuorigiochissimo Ma che è besta Andano a sfotte No Andavano purgati Per forza Dopo una roba del genere La giustizia divina Doveva trionfare Invece no Hanno vinto sempre le forze oscure 87 Niente Maledizione Maledizione Tutti giù Non me fa melina La facciamo 9 secondi 7 Non ce la facciamo Ma la fanno giocare Non me la fanno giocare Che sono dei maledetti Vabbè usciamo con onore Perché sta partita Cioè veramente Boh Ma è finita Cosa può colpire Da lì Peccato Peccato Perché Insomma Usci così Fa male Usci così Fa male Devo dire Che mi aspettavo Impareremo Da questa sconfitta Mi aspettavo Un po' di più La mia squadra È più forte Che volevo insinuare È il portiere Che ha dei problemi È un ottimo giocatore Ma che te devo dire Dei shibasaki Ma che me frega Poi Soprattutto Dunque Volevo capire Se le canesse Era di B o di A Era di A E allora Allora è una sconfitta Che possiamo accogliere Con orgoglio Perché Abbiamo perso 1 a 0 Per colpa Peraltro Di un paperone Ridicolo Per cui Va bene Che è arrivato A chi è Allora Calvo venduto Che è tornato Varga Oh Allora Aguilar Stiamo poi via De corsa Tiè Prendi Prendi Allora Abbiamo Qualche soldi Ma come potevo raggiungere Il tavolo finale De coppa di spagna Regà Ma che davvero Su Mamma Minimo di cervello Cioè Veramente La La follia Più totale Interesse per Wilkins Eh vabbè Tanto non c'è una lira Oh Pure Hannibal Si è ripreso Allora Allora Adesso Adesso Li portiamo Entrambi in panca Perché secondo me Così Si potrebbe Non li rischiamo Per adesso Però Questa è la formazione La formazione Richiesta Allora Andiamo con le stazioni Per la partita Quattro Non dovrebbe essere nulla No Infatti cinque Meno male E Si salva E andiamo Magliette vanno bene Allora Noi siamo Siamo chiamati adesso La grande impresa Che non so se sia fattibile Ma Toccherà provarsi Fare un po' di putti È la grande impresa Complicato Molto Però Non è impossibile Mamma mia Mamma mia Dovai C'è via nessuno Sul tacco Te La cosa Ragazzi Ma Buh Non ho Non ho possibilità Di oppormi Fai marino Che c'è il solito Cidofono Mi manca maresca Non pensavo Che l'avrei mai detto Ma Non pensavo Che l'avrei mai detto Ma è bene Alla fine Lo devo dire Una cattiveria Veramente Incommentabile Ah raga Hanno preso 2-9 minuti Una svegliatina Sarebbe gradita Bravo Alza Silva Saliamo Un po' Su Navarrete Bravo Navarrete E in mezzo Non c'è mai Nessuno Però Me devo sempre Me devo sempre Fermare Aspettare qualcuno Maledetti Vai Vai Margherito Guarda Navarrete Ho chiesto Troppa La vita No Non ero neanche Malasso I cambi di gioco Con questi Sono un pochino Complessi Un pochino Complessi Per l'altro È la reattività Dei nostri Rispetto agli altri Che è spettrale Ma Troppo A questi livelli C'è poco Da inventarsi No Bravissimo Ci vorrebbe Il 2-1 Prima della fine Non ho fatto Un tiro in porta Incredibile Bravo Mamma mia Mamma mia Siamo scherzi Forte Siamo scherzi Forte Ma no Ma io Non Non ma rendo Io non ma rendo No Io non ma rendo Vissio Tanto adesso Faccio entrare i due Che ci sono mancati Come l'aria Sono mancati Così anni Che varga Mamma mia Insomma Allora Diciamo che È praticamente Impossibile Riprenderla Sta partita Però Ma perché Mi dici Che sto Se sto ripresi Quando poi Non Al solito Allora Varga Sulla sinistra Hannibal Non mi va De giocare Ha detto Villalba Fuori Mettiamo Mettiamo Il piccolo Rossi E vediamo Che succede Dai è così Finalmente Varga Poi Soprattutto Ai rossi L'uomo Che ha causato Più rossi Nome Nomen Effettivamente Perché è quello Che fai spellere Una marea De gente Ci ho pensato Solamente adesso Rossi Possibilità Possibilità Per la ripartenza Bravo Quanto mi è rimancato Varga Quanto mi è rimancato Subito Un'intuizione Buonissima Peccato che sia Un pelino lunga Tatticamente c'è Varga Tatticamente c'è Mamma mia Mamma mia Che difesa Ragazzi Vabbè Senti Va bene così Va bene così Va bene così Cosa sto facendo Ma come 3 a 3 Vabbè Non la faccio più Sta cosa Pensavo che fosse finita Ho rimediato un punticino Benedetto Incredibile Incredibile Vabbè Non c'ho parole Sicuramente Per descrivere Quello che è successo Ma va bene uguale Anzi Ma pure meglio Di quello che avrei immaginato Quindi la squadra C'è che con me Non rende E prendo atto Prendo atto Vabbè Allora Intanto mettiamo Varga Si è ripreso Quindi torni Stabilmente Nel blocco E E Villalba Lo teniamo come cambio La varrete dentro Dentro rossi E Noi ci siamo In difensore In questo momento Andiamo un attimino A ritirarsi Nannato Mi sento molto male Sono pronto Per giocare Il topo In discussione Quella maglia È tua Ecco Così Siamo tranquilli Allora A questo punto Si ha Hannibal Che Che Varga Torna Nel blocco Titolare Spiace Per gli altri Ma insomma Siate veramente Dei cadaveri ambulanti Poco si può fare Con voi Allora Ultime uscite Per Marinovic E Calua Fino alla prossima A meno che Non ci sia Il grande ritorno Poi E Allora Un difensore Un difensore Un milione e sette Un sciabbia Io vorrei fare Un salto di qualità Allì dietro Ma Luminioni Pungi Pungi Corre Basta Però Scusate Avevamo detto Che se avessimo Trovato un terzino Avremmo poterlo Spostare Attala Attala Kim Jin Kim Kim Jin Jin Quanto Du Mioni No Ma Che cazzo Favamo andare un attimino Ad aprire La Gli Svin Colle Shons Mamma mia Madre Santa Benedetta Mamma mia Prestito Magari Riesce Fare qualcuno Che sia Pseudodecente Tari Taric U Acque Taric Taric Acque Chiedi Aggiungi Lista Vabbè Alla fine È solo Un cognome No Quindi Va bene Così Mamma mia Comunque Ci sono Veramente Delle Vip Incredibili In questa Qua niente Attaccanti Tipo Un bello Attaccante Steven Scritto Steven Vabbè Questo Vabbè Pessimo Questo Serrano Monte Hanno Delle Statistiche Che Sono Criminose Dmargio Ma che Cazzarola De nome Dmargio Ho tutto Il bene Non l'ho mai Visto Mi è Completamente Nuovo Godoy Questo Cuore Dai Inocchio Portieri C'è Forse Un profilo Promettente Ma non c'è Allora Detto ciò A primavera Non è che è successo qualcosa Un miracolo Tipo qualcuno è diventato Bravo Ci abbiamo Daniel Romero Che sta crescendo Però C'ha 15 anni Zbinden 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 è lento Però Però Vamo Vamo Però Vamo a fare una cosa Allora Metti Intanto Mettiamo Attila Lo iniziamo ad allenare Come difensore centrale Due settimane Che è pure Predisposto E Zbinden Che intanto Metto in lista Da sferimenti Intanto Nel dubbio Poi si fa sempre In tempo Alleranno Fa il TD E lui fa E lui fa il TD Dice Io faccio E fai il TD E così la prossima volta Comunque Con Girona Non mi ricordo Sono già fatto Ma nel dubbio Rifaccio 12 Meno male Ci sta di sempre bene Sono tornati Andiamo Magliette vanno bene Nuvoloso Va bene Adesso guardo ogni volta Ragazzi Adesso ci servirebbero Effettivamente Dei punti Guadagnati sul campo Se è possibile Il calcio È la nostra passione Il calcio È della gente Di tutte le milioni Sì il calcio È della gente Però adesso Faccio il giocato Dani Dai La varietta Li proposto In questione Di ruolo Che gli ha congeniale Bravo Silvan Bravo Silvan Arco Tutto Era buona Era Mamma mia Marino Dai Dai Mettici il fisico Su ste parave I fondamentali Forse l'avrei fatto A partire Dalla quantità Buon anni Mamma mia Silvan Silvan Ah Sei lento Perché l'idea era buona L'idea era buonissima L'idea era buonissima Ti prego Bravissimo Marca Niente Ancora 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 Alza Dai 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 Su Traversione Sul primo palo No dai Non ci posso credere Non ci posso credere Ecco che ci viene riproposto Ma sia il difensore Sia il portiere Calua completamente a volo E questo si fa buca sul palo suo Mamma mia che coppia Terribili Terribili Tutte e due Bravo Varga Giragli intorno Varga Bravissimo Non si riesce Una mole di sfortuna Ce l'abbiamo Ultimamente Io Non Non mi riesco a spiegare Non mi riesco a spiegare Varga Lo salta di netto Ma perché Dai 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 Non giochiamo neanche male Poi adesso che sto replicando il mio schema A grandi linee Poi devo mettere magari Nelle istruzioni specifiche Il mio schema del foot Con cui sono arrivato in divisione 1 Non è propriamente quello Ma è uno di quelli che uso Io al futuro Il 424 Però qui Alla fine è un 424 Un po' più basso E la difesa Che non mi funziona Sono pessimi Sono pessimi Sono pessimi Mamma mia Allora Non è tutto perduto Non è tutto perduto Devo fare una cosa Fatemi controllare una cosa Devo Devo fare così Come gioco io Qui Rimani avanti Qui rimani avanti Poi le tattiche Palla lunga Passaggi diretti E questo Questo è Vediamo se si riesce a fare un miracolo Però se non si tira un po' O meglio Abbiamo anche Abbiamo anche creato discretamente oggi Ma Manca la qualità La qualità quella vera Là davanti No Bravo Così Varga Fatte vedere Varga Fatte vedere Alza E il fallo Au 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 Io Se lo faccio io Questo è rigore Perché se lo faccio io Questo è rigore No Non è rigore Manco se lo faccio io Mi sa Porca Pensavo io Fui sentato sulle gambe Con Con la scivolata Abbiamo preso campo però Abbiamo preso molto campo Con gli ultimi Ti prego Varga Mi devi dare una mano però Niente Maledizione Quanto siamo Scarsi Ma Ma Perché Non tiri Perché Perché Non Perché Tu lo tiras Te lo dico in spagnolo Che non so mai Cosa si dice così Lo fa Questo miracolo A Silva mio però Silva mio Io premo Y Tu ce pensi Te sposti Te 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 risposti E poi ce ripensi E poi parte l'input Io che devo fa Cerco un po' di dinamismo In questa squadra E non lo trovo mai Anna Varese È in fuorigioco Niente Margello Te lo sei scordato a casa Te lo sei scordato a casa Va bene La metti in aria Sventa il pericolo E allontana Varga L'avrocchiata in aria La mette in mezzo Che l'olore Eh Vabbè Allora Allora Uno dice La volemo perdere E uno la perde Vuole qua Spaccagli i denti Con una pallonata No Lui Gliela passa Scinti il mount Prego Gliela porgo C tua Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Terzo No Vabbè Non è stato Un punto in campionato E l'esclusione Dalla coppa di spagna Ottimo Ottimo Devo dire ottimo Le partite Quelle Gli episodi Quelli proficui Va bene Va bene Che tocca Fa Sta migliorando Si è superato Sì sì Soprattutto quando ha passato la palla al portiere alla fine È stato Ma non abbiamo mai avuto una Non abbiamo mai avuto una serie noi ragazzi Quale serie Reagiremo Non temete Allora Io a questo punto Mi fermo un attimo Sono stessa parole Sì sì Non affrettare Non preoccupate Non preoccupate Ecco Ok Ragazzi Io mi fermo qua Così avete Il sondaggio per il peggiore della settimana Da fare su Instagram Mi raccomando Primo commento O descrizione Possiamo parlare un attimino del mercato Per quanto ci sia veramente poco da poter spendere Però Meglio di un calcio in bocca E Vediamo un pochino Speriamo bene Mi affido a voi Speriamo un attimo